ciao sono marco merangola leadership trainer e fondatore dell'accademia leadership lab eccomi di nuovo a presentarti il video sul metodo bps il business project system hai un'idea innovativa e vuoi capire come realizzarla vuoi costruire un nuovo business oppure rilanciare quello che è attualmente bene il metodo bps è la soluzione ideale che fa per te è la prima cosa che devi fare prima di andare a fare qualsiasi corso con leggere un libro ascoltare un audiobook fare scelte affrettate investire soldi e coinvolgere magari altre persone nella realizzazione della tua idea aspetta conosci e utilizza il metodo bps per progettare il tuo business in modo da sapere subito prima di ogni altro passo cosa hai cosa non hai e che cosa ti serve per trasformare la tua idea in un business concreto realizzabile bene il bps il business project system è un metodo è il metodo più veloce più efficace per trasformare la tua idea imprenditoriale in un business concreto lascia solo che te lo presenti ciao eccomi di nuovo qui per parlarti del metodo bps business project system e lo faremo attraverso un percorso in cui desidero guidarti passo dopo passo proprio per aiutarti a comprendere perché è così importante per te avere un metodo che cos'è il bps a cosa serve e come lo puoi utilizzare nel tuo business e nella tua azienda perché è così importante per te il bps un dato di fatto parliamo un po di lavoro e di numeri e i numeri come spesso accade hanno sempre ragione nel lungo periodo se c'è una cosa che in italia non manca è proprio la tendenza al lavoro indipendente anche se da molti questo è vissuto come una valvola di sfoco rispetto al lavoro dipendente vuoi perché negli ultimi ormai dieci anni il lavoro dipendente si sta sempre più sostituendo con il fenomeno delle collaborazioni coordinate continuative che di fatto coprono spesso il lavoro dipendente che tra l'altro è preferito perché permette di abbattere quei prelevi fiscali e contributivi a carico delle aziende vuoi perché oggi sempre più persone sono tentate di voler vedere realizzate le loro idee imprenditoriali tentando di costruire un business di cui andare fieri con cui e con cui crearsi un futuro diverso vuoi perché in fondo siamo un paese di artigiani che da sempre ha pensato a come sviluppare affari mercateggiando sì perché a suo tempo non si chiamava ancora business comunque sia oggi va all'italia il record europeo per il lavoro indipendente con una percentuale che sfiora il 30 per cento circa dei lavoratori autonomi rispetto al totale degli occupati e in questo abbiamo veramente la media più elevata in tutta europa e voglio dirti che questa tendenza è destinata a salire entro il 2020 25 dove alcune statistiche governative citano che in italia circa il 40 per cento degli italiani occuperà in futuro un lavoro indipendente cioè dovrà occuparsi e preoccuparsi di procacciare lavoro e business per se stesso e per l'organizzazione di cui farà parte altro interessante fenomeno a cui assistiamo poi negli ultimi anni è che moltissime persone e sono sempre più di propria spontanea volontà prendono la strada del diventare imprenditore e decidono di avviare un'attività in proprio magari perché in testa prima avevano molte idee ma nessun capo è stato disposto ad ascoltarle sai molto spesso nelle aziende ancora oggi funziona così ora tutto questo che significa che sebbene sia abbastanza chiara la differenza tra il lavoro dipendente e il lavoro indipendente non sempre è chiaro nelle persone che compiono questo passo il significato di espressioni come mettersi in proprio come avviare un'attività o come diventare un imprenditore infatti qualunque sia la natura per cui una persona si trova ad essere o voler diventare un lavoratore indipendente oppure voler diventare un imprenditore c'è un aspetto che regna su tutto e che è la mentalità imprenditoriale molte persone semplicemente non l'acquisiscono si proiettano con tutte se stesse nel business ma ragionando da dipendenti e allora imprenditori si nasce o si diventa la mentalità imprenditoriale non è quella che ti dice che bastano la buona volontà e una disciplina ferrea per ottenere le cose questo sicuramente è il miglior modo per predire il fallimento della propria scelta di diventare un imprenditore questo per dire che ogni imprenditore o aspirante tale ha sempre grandi idee ma avere un'idea anche se brillante questa da sola non garantisce il successo di un business e quando agisci da imprenditore che diventi un imprenditore e qualunque idea imprenditoriale tu abbia è il modo di ragionare che è diverso un modo progettuale di verifica di analisi e di scelta di tutte le decisioni da prendere per far funzionare correttamente il proprio business nuovo o attuale che sia il vero imprenditore che vuol essere un leader nella sua organizzazione sa che sono le sue decisioni a definire il successo o l'insuccesso della sua impresa a prescindere dalla crisi dal mercato e dalla concorrenza ogni decisione presa genera un effetto sul proprio business e ora ho una domanda importantissima per te cosa succede oggi inesorabilmente tra le persone che si affacciano per la prima volta nel mondo del business attuale ti cito solo due statistiche attuali che segnano drasticamente come cicatrici sulla pelle l'andamento del business attuale il 78 per cento delle aziende aperte oggi non riesce a superare i primi due anni di attività sei aziende su dieci dichiarano di avere difficoltà e di non sapere come agire per il futuro e perché succede tutto questo per la crisi il vero motivo non è per la crisi la crisi ha solo messo in evidenza quelle carenze manageriali e di leadership che erano già latenti presenti e soprattutto sottovalutate negli imprenditori nei manager e nei professionisti in genere anzi la crisi è il vero banco di prova dell'imprenditore di un manager o di un professionista è il momento in cui può dimostrare la sua bravura nel prendere le decisioni giuste quelle decisioni intelligenti per lo sviluppo del suo business in quel mercato in un mercato complesso competitivo come quello attuale invece a cosa assistiamo cosa succede oggi in un primo caso c'è chi dopo aver dato fondo a tutte le risorse economiche fisiche psicologiche dei primi periodi dopo aver dato fondo alla propria disciplina alla propria forza di volontà lavorando tutti i giorni tanto e a volte oltre i propri limiti fisici di fronte alle difficoltà del mercato attuale rinuncia di prendere altre iniziative smette di studiare di elaborare altre strategie innovative rinuncia a comprendere le dinamiche e le richieste del mercato attuale e si affida la speranza che qualcosa cambi fino a che non si convince che per colpa grave della crisi forse occorre chiudere la propria azienda e abbandonare di vedere realizzata la propria idea oppure all'opposto c'è chi è preso dalla foga dall'ansia da prestazione si dedica ossessivamente alla ricerca di qualunque strada lo porti alla realizzazione della propria idea promuovendosi ovunque con chiunque e con ogni mezzo facendosi notare male e anche troppo risultato perdita di focalizzazione poco controllo del business confusione agli occhi del cliente aumento dei costi aziendali e inevitabilmente aumento dell'esposizione finanziaria magari conviene anche qui chiudere l'azienda e abbandonare l'idea ora in tutte e due casi cosa genera tutto questo in chi si avventura in modo sprovveduto tanta confusione smarrimento sensazione di non sapere cosa fare e dove andare sensazione di non riuscire nella gestione delle attività e la paura di un futuro che appare sempre più incerto ecco perché amo ripetere questa mia frase oggi oltre la crisi ci sono imprenditori fortemente in crisi ora hai un'idea e vuoi realizzarla vuoi aprire un nuovo negozio un'attività come magari un bar vuoi avviare un'attività di networking vuoi avviare una nuova attività professionale per esempio vuoi diventare un consulente un coach un formatore vuoi migliorare rilanciare e sviluppare il business che hai attualmente ci sono tre cose fondamentali che devi conoscere per non fallire te lo voglio ripetere se è un'idea imprenditoriale vincente oppure vuoi rilanciare la tua attività di business oppure vuoi costruire un nuovo progetto di business per battere la crisi e non vuoi far parte delle due statistiche che ti ho appena citato ecco ti occorre queste sapere queste tre cose fondamentali uno che imprenditori non ci si improvvisa ma si diverta solo se si apprendono le capacità di ragionamento e decisionali tipiche del management e della leadership professionale due che oggi ci sono regole diverse rispetto al passato per fare business bisogna conoscere saperle applicare e sapere che cosa cambierà nel mercato nei prossimi 24 mesi e questo per te come per me è vitale per la nostra sopravvivenza ma sappi che sapere solo questo non ti basta perché perché la cosa più importante per lo sviluppo del tuo business è racchiusa nel terzo e ultimo punto cioè sapere come progettare prima il tuo business con uno strumento che ti possa permettere di avere sotto controllo e per sempre la tua attività sia nei prossimi primi 24 mesi e poi anche oltre questo il motivo per cui padroneggiare il bps è per te importante ti parlo di uno strumento che ti permette di mettere in fila una dietro l'altra tutte le decisioni da prendere per far funzionare bene per sempre il tuo business e per vedere anche quali sono gli effetti sul mercato il bps è in assoluto la prima cosa che devi fare prima di impegnare tutti i tuoi capitali e scoprire magari che la tua idea di business andava migliorata oppure prima di investire tutto in progetti che non ti porteranno a nulla se non a frustrazione e insoddisfazione allora è comprensibile perché è così importante utilizzare il bps vediamo allora insieme che cos'è il bps eccolo il metodo bps il business project system è una mappa è l'insieme di 12 passi indispensabili per creare sviluppare saper gestire qualsiasi business il bps il business project system è un metodo pratico e coinvolgente che ho sviluppato dopo tre anni di studi e di applicazione pratica nell'azienda in cui svolgo la mia attività di business coaching e consulenza è un sistema rivoluzionario che utilizza il principio visivo e che in modo semplice misurabile pratico e veloce ti permette di conoscere approfonditamente il sistema di funzionamento di un business e di cosa ti occorre fare per creare sviluppare gestire o rilanciare qualunque qualsiasi business tu abbia attraverso un percorso sequenziale di pensieri di decisioni accurate e verificate attraverso l'utilizzo di ultimissime innovative strategie tecniche di management di leadership professionale di vendita di marketing web marketing e un piano dettagliato di azioni con il bps potrai apprendere come fare tutti i passi giusti per costruire un'impresa successo per trasformare la tua idea imprenditoriale in un business concreto e realizzabile anche e soprattutto in tempi di crisi è un metodo di business coaching che segue due regole fondamentali prima regola il formato cartaceo 50 per 70 questo perché perché la mente degli umani funziona per associazione di immagini tutto ciò che diciamo la nostra mente la riproduce al proprio interno in forma di immagini perché perché difficile avere un quadro d'insieme di un'organizzazione senza una descrizione visiva perché perché capire come funzionano le organizzazioni non è un compito semplice uno schema visuale ci permette ti permette di poter semplificare schematizzare una serie di decisioni da prendere in sequenza una dopo l'altra e perché e perché le immagini aiutano a evidenziare informazioni a volte date per scontate e aiutandoci a pensare in modo intelligente la seconda regola è che se un business regge in un foglio regge sul anche sul mercato il metodo bps sfrutta un principio dell'accademia leadership lab a noi veramente molto caro che è quello della coerenza fa potenza e grazie alla visione d'insieme ti rendi conto subito se le tue decisioni che preso per far decolare il tuo business sono coerenti l'una con l'altra e così possono funzionare il bps è un sistema per avere sempre sotto controllo il tuo business è il progetto che descrive il funzionamento del tuo business e della tua organizzazione tutte le organizzazioni hanno un progetto uno dei problemi principali per cui moltissime aziende falliscono moltissime idee non si trasformano in un business concreto è perché spesso questo è solo nella testa di un imprenditore di un manager e non nero su bianco ecco il bps diventa il progetto del tuo business come se vuoi costruire una casa hai bisogno di un ingegnere prima che ti faccia un progetto e poi di un'azienda edile per trasformarlo in una vera abitazione ecco la stessa cosa è con il tuo business prima con il bps delinei scegli e decidi tutto ciò che puoi fare per farlo funzionare e poi passi alla sua attuazione pratica e per questo motivo che il metodo bps è un sistema perfetto e straordinario che viene prima di tutto in realtà e in tutta onestà quando ho creato il bps mi resi conto sin da subito che sul mercato esistevano anche altri modelli di business tipo per citarne uno il più famoso che è il model canvas che sono solo all'apparenza simili al bps perché utilizzavano e anche oggi utilizzano la visione di quadro insieme per costruire un modello di business ma a mio parere sono mancanti di almeno sette differenze fondamentali che solo ed esclusivamente il bps ti offre vediamo insieme quali sono la prima differenza è quello che il bps ti permette di sapere cosa è uno schema o un modello di business e sapere anche come poterlo applicare per lo sviluppo della tua ed è imprenditoriale la seconda opportunità che ti dà è quella di conoscere e percorrere il percorso del funzionamento corretto e adeguato di un business nel mondo di oggi con tutte quelle che sono anche le peculiarità sia dell'online e dell'offline terza e fondamentale importanza differenza è che il bps ti permette di individuare riconoscere e poter mettere nero su bianco il tuo miglior progetto di business la quarta differenza e fondamentale opportunità che ti offre il bps è quella di scoprire ed eliminare tutti i rischi di investimenti in tentativi inutili facendoti così non fare quel salto nel buio e poi scoprirsi che solo dopo non avrebbe mai funzionato la tua idea una quinta differenza e importantissima è che il bps pone un'attenzione particolare all'aspetto decisionale e come questo influisce pesantemente sull'esito del tuo business la sesta e penultima differenza è che il bps ti permette di unire lo studio anche di analisi e di creazione delle varie nature di partnership che ti sono necessarie per far decollare il tuo business mentre l'ultima e fondamentale differenza è che il bps ti fa avere il quadro un quadro d'insieme del tuo progetto di business per poterlo poi evolvere continuamente guardandolo complessivamente nel suo funzionamento in ogni momento da oggi fino a quando si tratta di farlo la grande differenza proprio del bps risiede proprio in questi aspetti fondamentali che ti ho appena citato e che insieme ad altre sue grandi specificità lo rendono particolarmente concreto ed efficace quindi se vuoi trasformare la tua idea imprenditoriale in un business concreto realizzabile se vuoi progettare un nuovo business se vuoi sviluppare i risultati del tuo business attuale se vuoi migliorare il funzionamento e l'ottimizzazione della tua organizzazione oppure se vuoi migliorare le performance della tua azienda sul mercato oppure ancora se vuoi avere un quadro d'insieme del tuo modello di business se vuoi avere sempre sotto controllo il tuo business per non avere sorprese economiche finanziarie il bps è lo strumento in assoluto che ti permetta di farlo è lo strumento che fa emergere l'imprenditore che c'è in te vediamo allora insieme cosa non è il bps ecco il bps non è un business plan lo scopo del business plan è altro è quello di descrivere comunicare progetti in modo tale che poi possono essere presentati a potenziali investitori e business angels a banche per richiedere finanziamenti sostanzialmente il business plan nasce con tre obiettivi uno determinare un progetto futuro due verificare in che misura si possono raggiungere gli obiettivi che ci si è dati e tre servire come biglietto da visita per presentare l'impresa la propria azienda all'esterno a potenziali soci a finanziatori a banche a clienti a fornitori infatti il business plan è diverso proprio dal bps soprattutto perché perché è statico non descrive il funzionamento il processo del funzionamento di un business ma fa una sua fotografia una fotografia di ciò che potrebbe essere o sarà il business non descrive le correlazioni che ci sono tra una decisione presa e l'altra ma solo le sue parti organiche questo per essere valutato questo come magari l'analisi di mercato comprende l'analisi dei rischi l'analisi finanziaria la tabella di marcia per l'implementazione del progetto in realtà un buon lavoro effettuato con il bps è proprio la base perfetta per stendere poi un solido business plan per questo oggi grazie a questo aspetto il bps è presente in alcuni incubatori e acceleratori di imprese in italia proprio per aiutare nuovi imprenditori imprenditori a trasformare le loro idee innovative in progetti che poi possono essere veramente presentati a enti finanziatori o investitori quindi vediamo insieme quali sono le unicità del metodo bps e vediamo insieme come funziona bene immagina un cartellone formato 50 per 70 che descrive un percorso un percorso fatto da tappe dove ad ogni fermata occorre prendere una decisione ogni decisione rappresenta un pezzo del puzzle del funzionamento concreto della tua azienda oppure dello sviluppo del business che vuoi realizzare e in tempo reale ciò che puoi vedere è che il bps proprio sfrutta il principio visivo di un percorso fatto da tre grandi unicità che lo fanno differire lo contraddistinguono in italia proprio come un percorso un modello unico e rivoluzionario la prima unicità è che ci sono 12 passi per 12 decisioni indispensabili da prendere coherentemente le prime sei decisioni definiscono il tuo schema o un modello di business la settima e l'ottava decisione rende misurabile il tuo business mentre le ultime quattro decisioni definiscono la gestione del tuo business quindi la seconda unicità è che il bps ha tre livelli decisionali il primo in ordine di sequenza è le decisioni strategiche da prendere per far funzionare il tuo business il secondo sono le decisioni operative da prendere mentre il terzo è la serie di decisioni da prendere sulla pianificazione delle azioni che occorre fare per far funzionare tutto il business la terza grande unicità è che il bps è un percorso visivo fatto da frecce frecce che definiscono il modo intelligente di prendere una decisione e l'impatto che questa decisione ha nella realizzazione del tuo business qui c'è il cuore del bps cioè lo studio che ho condotto negli ultimi cinque anni sull'intelligenza manageriale vediamo quali sono i quattro presupposti su cui si basa tutto il metodo bps infatti il metodo bps si basa su innovativi e ultimissimi principi di management di leadership professionale di marketing di web marketing tecniche di vendita che lo rendono estremamente efficace con l'attuale funzionamento del business di oggi vediamoli insieme primo presupposto tutto parte dalla chiarezza della tua idea imprenditoriale secondo tutto è in funzione del tuo cliente core business terzo tutto è in funzione del valore che vuoi e puoi offrire ai tuoi clienti quarto ed ultimo presupposto è tutto è in funzione del posizionamento sul mercato che vuoi creare con il tuo prodotto servizio tutto il metodo bps ruota intorno a questi quattro presupposti ora vediamo quali sono gli strumenti per utilizzare il bps il bps si utilizza poi con l'uso di alcuni strumenti visuali come disegni le immagini dei grafici dei post it su cui scrivere le tue decisioni ecco tutti strumenti che ti sono utili per fissare discutere condividere costruire e sviluppare la tua idea di business che vuoi realizzare questa modalità valorizza l'uso delle domande strategiche che le propone in un percorso di scelte che chiariscono le relazioni tra una decisione e l'altra definiscono anche tutto ciò che occorre che tu faccia per realizzare il tuo business e rendono semplice ciò che complesso quindi quali sono questi strumenti allora ci sono post it di tre colori e di dimensione media un colore per ogni livello decisionale pennarelli medio grandi per scrivere sui post it set di matite colorate per disegnare ciò che vuoi esplicitare meglio nelle tue decisioni e evidenziatori di due colori come per esempio giallo o arancio ecco i post it servono per fissare le decisioni prese in una determinata area di discussione il set di matite occorrono per trasformare le decisioni in immagini evocative risvegliando così la parte creativa della nostra mente le immagini hanno il potere di esprimere idee significato che in un modo discorsivo richiederebbero veramente tante troppe parole ecco gli evidenziatori servono per dare risalto a ciò che è prioritario e il risultato sarà di un percorso fatto da post it disegni e immagini che con l'uso della fantasia di ognuno rendono il percorso di business un quadro d'insieme ricco di informazioni ed emozioni il bps semplifica enormemente in modo visivo la realtà di un business del funzionamento di un business e di un'organizzazione aziendale e di tutti i suoi processi per farla funzionare al meglio vediamo adesso come utilizzare il metodo bps ora che hai tutto vediamo da vicino come con il bps puoi realizzare concretamente il tuo business tutto parte da qui dalla tua idea da ciò che vuoi realizzare è il primo e fondamentale passo che devi compiere e nel farlo devi chiarire bene con te stesso cosa vuoi realizzare perché perché anche il primo è il più distruttivo errore che compiono le persone che si accingono a voler realizzare un business la regola base è l'idea non deve essere per forza geniale originale è fondamentale che sia chiara e realizzabile quindi la prima cosa che devi fare per avere successo nel tuo business nella tua organizzazione è proprio chiarire estremamente bene la tua idea di ciò che vuoi realizzare a volte è chiaro nella tua mente ma non lo è nei confronti di chi ti osserva di chi ti ascolta e che dovrebbe capire come puoi essergli utile in questa fase il bps ti aiuta a chiarirla in modo tale che sia assolutamente definita una volta definita la tua idea la scrivi sul tuo post it e la metti qui in alto la seconda scelta è con il bps è il tuo core business è il centro è il cuore del tuo bps cioè chi è colui che ha scelto come soggetto e oggetto del tuo business chi sarà il cliente a cui vuoi fare arrivare la tua idea queste che appena visto sono le prime due decisioni fondamentali e importantissime da prendere in questo modello di business che è il bps poiché descrivono l'inizio e la fine del percorso di business tutte le altre decisioni servono per corregare la tua idea al tuo punto d'arrivo che sia un cliente che sia un segmento che sia un progetto un settore non cambia la terza decisione è il valore chiave è il valore che vuoi offrire ai tuoi clienti e per cui un cliente disposto a darti dei soldi mentre la quarta decisione è importantissima è la tua posizione la posizione che vuoi assumere sul mercato e per cui sarai riconosciuto ricercato e scelto dai tuoi clienti mentre la quinta decisione è il tipo di servizio che vuoi creare che vuoi offrire ai tuoi clienti target la sesta decisione è l'insieme dei mezzi adeguati e migliori con il quale riuscirai a offrire il valore del tuo prodotto e del servizio ai tuoi clienti è l'insieme dei canali è l'insieme degli strumenti che utilizzerai per arrivare ai tuoi clienti ecco queste sei decisioni queste prime sei decisioni sono coloro che definiscono il tuo progetto di business mentre la settima decisione è l'insieme degli indicatori con cui costruirai e misurerai i tuoi risultati business nello specifico ti parlo della definizione degli obiettivi dei risultati di quell'insieme di entrate del profitto del tuo esercizio di business l'ottava decisione invece è quell'insieme di attività chiave che puoi intraprendere per far arrivare il valore ai tuoi clienti target ecco queste due decisioni sono coloro che misurano il tuo progetto di business la nona decisione è costituita invece dall'insieme delle risorse chiave che ti sono necessarie per distribuire organizzare il tuo business e come queste incidono poi sui costi della tua organizzazione la decima decisione è fondamentale per la tua sopravvivenza poiché analizza le competenze chiave che ti occorre possedere per raggiungere il successo del tuo business mentre l'undicesima decisione analizza e studia tutti i rischi e tutte le minacce che possono esserci sul mercato e che possono impedire o limitare il successo nel tuo business l'ultima e dodicesima decisione si focalizza sulla ricerca delle partnership di quelle partnership che ti occorrono per far decollare il tuo business ecco queste ultime quattro decisioni sono coloro che ti dicono come gestire il tuo progetto di business per avere successo inoltre la modalità del come puoi prendere decisioni è rappresentata proprio da quell'insieme di frecce che vedi sul bps ed è data da uno schema di ragionamento intelligente proprio nel saper prendere decisioni e che si basa proprio sull'intelligenza manageriale quella intelligenza che insegniamo nella nostra accademia leadership lab al termine delle decisioni strategiche tornerai sul percorso per delineare le decisioni operative e la pianificazione di tutte quelle azioni da svolgere per farlo funzionare ora e per sempre come potrai intuire alla fine di tutto il tuo percorso ciò che ottieni è una strategia che delinea il tuo modello di business un insieme coerente di decisioni operative da implementare un'analisi dei costi e delle entrate per sostenere l'esercizio e una pianificazione accurata per aria di tutte le azioni da compiere e come ti dicevo all'inizio del video tutto ciò che hai tutto ciò che non hai e che ti serve per far decollare far funzionare il tuo business e ora la domanda ma a chi serve il bps ecco serve all'imprenditore di azienda per trasformare le sue idee in un progetto di business per trovare nuove strade e sviluppare il business attuale oppure per migliorare il rapporto con i propri clienti serve al manager professionista che vuole coinvolgere maggiormente il proprio team di lavoro nella stesura di nuovi progetti aumentare la loro motivazione coinvolgimento del personale aziendale serve a un consulente a un formatore a un business coach che vuole aiutare i propri clienti a mettere in discussione e sviluppare nuovi modelli di business proprio utilizzando un metodo nuovo un metodo unico e rivoluzionario concludendo quali sono i vantaggi che otterrai con il bps i vantaggi sono che saprai sempre come prendere decisioni nel tuo lavoro nel tuo business in modo intelligente farai sempre le mosse giuste per il tuo business costantemente comprenderai sin da subito quali sono le conseguenze positive negative delle tue decisioni sia nel breve nel medio che nel lungo periodo e capirai ciò che hai ciò che non hai e ciò che ti serve per realizzare il tuo business e quindi in conclusione la domanda per te è solo una vuoi essere in grado anche tu d'ora in poi di prendere sempre la decisione migliore per lo sviluppo del tuo business se la risposta è sì il metodo bps è tutto ciò che ti serve bene eccomi di nuovo ricapitoliamo in questo video ti ho svelato cosa è il metodo bps e perché è così importante per te nel business di oggi quindi allora se ritieni che queste informazioni ti abbiano suscitato interesse ti invito a visitare il nostro sito www leadership lab.it e andare sulla pagina proprio del metodo bps business project system li troverai un percorso di webinar dedicati esclusivamente a imprenditori a manager professionisti che vogliono sapere come affrontare in modo pratico e concreto e diverso le nuove sfide del futuro proprio applicando il metodo bps quindi poi se desideri invece sin da subito approfondire come utilizzarlo nella tua organizzazione nella tua azienda per lo sviluppo del tuo business prenota il tuo posto al prossimo corso intensivo di tre giorni bps business project system come costruire il tuo progetto di business in tre giorni saprai come mettere in pratica al 100% la metodologia bps e godere di tutti i vantaggi che questo mezzo straordinario ti offre li ricorderai come i tre giorni che in assoluto hanno cambiato il tuo modo di guardare il business inoltre mi farebbe piacere enormemente anche sapere che cosa ne pensi di questo video ogni commento è per me e per i professionisti partner del leadership lab fonte di enorme ricchezza ci teniamo davvero ora non mi rimane solo che salutarti ringraziarti per la fiducia e rivederci nei prossimi percorsi dedicati proprio al bps e per tutti gli altri grazie infinite per essere stati qui insieme a me in questo video e vi auguro tanta tanta prosperità buon business a tutti da marco marangola grazie a tutti grazie a tutti Grazie.